ve lo dico allora ve lo dico questo gioco che stiamo andando a prendere costa 4961 euro rega fidatevi ne vale la pena mo lo vedete hot shot racing hot shot racing si marzo ancora per noi si è milton guanyu giù sorriso ragazzi è pazzesco spazio filtra non ce l'ho lo spazio e non lo so messo come è arrivata ma cazzo se dritta devi evita fare il freno che pure il nostro ho capito ma meno che non gira stamattina gira marosone marosone e ma questo già con la tastiera baggata ma che con la tastiera baggata e poi sono svantaggiati fabbio con la città ma io sono ultimo no sta per essere eliminato marzo levati no te devi cavato chi è prima di voi sono malissimo sa curva qua e chi deve essere maestro portati ma levati di culo ma levati di culo ma levati di culo il poco dei busti in più alla fine levati di culo ma sempre esagerato un fenomeno sono partito male sono partito malissimo anche io la super challenge e guarda che sacco scrotale che sei a sto nella del cazzo ma domani che cazzo spingere bomba mi serve un po di scia eccolo madola salion chi è che c'è la formula 1 gianco bastardo come l'hai presa il motore mi si è impallato pure a me anche a me cos'è che bisogna fare alla fine del 2 che sei un sarcofago di merda eccoci qua sempre a insultare madonna come gli ho delicati distrutti sayonara ci vediamo la prossima mappa se volete è la madonna chi è che m'ha zoppato ok 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 ma qui è una tragedia ragazzi è stato lui no non è vero che sono ultimo io voglio che a fare il recupero dell'anno se non lo faccio mi suicido vediamo sto meglio mentre pulito ma chi è entrato ti sto spingendo il maestro no ragazzi è una merda ma che recupero ma che recupero ragazzi stai attento che potrai succhiartelo perda mi so mi so impallato si nova non lo so stai arrivare terzo non so come raga a casa a casa ma zo te ne sei accorto un po' tardi no stavo festeggiando con la musica della formula 1 niente continuo a rompere il motore cioè devo fare sempre da 0 a 100 no ma zo se vuoi ti insegno il trucco devi rimanere a metà devi semplicemente arrivare al giallo e restare lì ok tutto il tempo male bruttizia questo messo aia ma chi è che ha messo la macchina formula 1 più durante il maestro è il maestro che ha la macchina formula 1 macchina formula 1 che meritava di vincere prima però è stata devastata ma è un gioco che piace al maestro quindi non lo fai più ah ok godo è addobbato addobbato no è tornato no final lap l'avevo superato in maniera l'ultima dai iniziamo a distruggermi l'ho presa larga che vuoi figa del tuo dio però sto final lap all'ultima da bastardi posso dire ci sono un sacco di cose che possono comunque rispecchiare le vostre skill le cose da uomini non sono una di queste dai marzo marzo hai perso cioè prima hai perso che stai a dire ride or explode mi sa che chi si ferma è morto ah non puoi rallentare ok ah seppur la vita no penso che rallenti un po' è finito ah seppur la vita ah devi mantenere ah seppur il danno su si rivedono su le cose ah seppur la tua che è questo che domani muore eh no 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 fai attenzione mi volevi uccidere non te volevo uccidere ti ho spinto solo no no sono finito mamma mia sono finito e box verso per vincere il gran premio di maglievi l'ho finita non è a ruote scoperte non lo so perché non so che cosa sia questa modalità ragazzi oh è quella di prima due anni debo non lo so e dei baci sulla pelata no è barrels qualcosa raga questo è distruggerci a vicenda ah se ah si semplicemente ne puoi distruggere gli altri anche io ho un barile raga e puoi lanciarlo non so con che passa aiuto ah ma avete tirato un barile ho capito eh dai no ragazzi sono un HP madonna ma rimangono i barili di prima ragazzi sono solo ah sono esplosso ho capito gioco estremo gioco estremo un assassino della strada un pericolo sentite che maglie ha fatto una frog splash oh dio sentite che c'è ti recuperò recuperò come il totale che ti uccido ti uccido prova c'ha un HP ragazzi oh ma non è possibile non sono morti non sono morti ragazzi eh l'avevo messo troppo forte dammi la madama dammi la madama no va lo faccio io guarda che stanno correndo troppo a questi giovani mi preoccupare sono già nostri io sto rispettando i limiti io sto rispettando i limiti signor carabinier sei andato troppo veloce ti serve una manovra pit a me stanzi dei molendo sono stato senza metà vita ma io ho già 50 di vita ragazzi io ho messo pure un tirinio ho detto oh dai basta ah in realtà ma che cazzo basta guarda questo qua ragazzi è impossibile ragazzi stiamo superando i limiti delle strong no no mi uccide mi uccide ahia c'ho uno di vita c'ho uno di vita c'ho pure la jesse no no oddio sono in fiamme sono in fiamme sono morto sono a marzo ma niente finisce fuma sono diventato un carabiniere lo prendo io lo prendo io mi rimane uno solo sono super avanti vieni qua pezzo di strancio burp oddio oddio no non ce l'ho fatta no non va hai fatta non ce l'ho fatta ma come avete fatta non prenderlo tragedia l'abbiamo preso nel culo ma perché da carabiniere non posso vincere ho ragazzi è il migliore gioco che mi avete mai vincato non lo so ti ricordo che abbiamo giocato a bimboago bro bimboago è un cesto è una merda è un aborto è uno schifo come ti permetti grazie 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 grazie